C'è anche il peserese Giorgio Ricci, storico amico di Rossini TV, fra gli insegniti dell'edizione 2022 del premio Adriatico Un mare che unisce. Premio che ogni anno viene conferito a personalità che si distinguono per opere di bene e comportamenti virtuosi nei settori di arte, cultura e volontariato. Un premio che viene assegnato a persone individuate in tutte le regioni che si affacciano sull'Adriatico, sia sulla sponda italiana che su quella opposta. In questa edizione è stata la città pugliese di Manfredonia ad ospitare il premio itinerante ideato dal critico d'arte Massimo Pasqualone. Ricci è stato fra i marchigiani premiati per il suo impegno in ambito sociale e di volontariato. La cosa mi ha colpito particolarmente perché qualche dubbio c'era sull'organizzazione, da chi arrivava a questo premio eccetera, però la grande scoperta è stata questa. Tutto nasce da una semplice idea di un professore universitario, il quale dice che è ora di cominciare a parlare un po' del buono e del bello. C'è tanta gente buona, c'è tanta gente che fa del bene, cerchiamo di metterla in evidenza in modo che se ne troviamo tanti probabilmente l'imitazione ci porterà a non dover dare più il premio perché saranno più quelli che faranno del bene di quelli che non lo faranno. E questo mi ha colpito molto e ho accettato volentieri. Non mi sono pentito di essere andato a Manfredonia perché ho trovato un ambiente stupendo, un ambiente fatto proprio di volontariato in tutti i sensi. e quindi direi che la purezza con la quale questa iniziativa è nata merita indubbiamente di essere non solo accolta ma di essere anche evidenziata per perseguire le scopi del presidente, dell'ideatore. Cioè speriamo che ci sia molta gente ad imitare chi fa del bene e chi fa del buono. Quindi arte e altruismo.